Ciao a tutti, sono Andrea Curiat del Sole24ore, ringrazio anzitutto gli organizzatori per avermi invitato a moderare questo convegno che arriva in un momento importante per il settore del turismo in Italia, è un momento fondamentale per andare a individuare in che modo si può sviluppare la produttività e la ripresa del settore del turismo in vista della ripresa più generale dell'economia nella seconda metà del 2013, in modo da arrivare pronti all'appuntamento con il recupero dell'economia. Io lascerei subito la parola ai due relatori introduttivi del convegno di oggi sul tema del turismo che verrà dopo la crisi e sulle riflessioni su come innovare e dare slancio al settore anche attraverso la contrattazione collettiva nazionale del lavoro e lascerei quindi subito la parola ad Angelo Candido per la gestione introduttiva. Grazie.